Vicini ai fatti di Barcellona, sono tanti lucchesi che in questi giorni si trovano nella città spagnola turisti o professionisti che lavorano in Catalogna. Incendio doloso distrugge impianto sportivo, ignoti giovedì notte hanno afficcato le fiamme negli spogliatoi del campo di San Cassiano a Vico, danni per decine di migliaia di euro. Spiaggia invasa dall'Avarone, ruspe al lavoro per la rimozione a Petrasanta, oltre 100 tonnellate di rifiuti rimosse in queste ore che si aggiungono alle 1300 già tolte da inizio stagione, emergenza ciclica da risolvere, dicono gli operatori turistici. Lo sport in ciclismo, lo spettacolo è a marginone, grande ciclismo giovanile il giorno di Ferragosto con i memori al carezzi per esordienti e il trofeo pellegrini per allievi. Ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi che apriamo parlando dei fatti avvenuti a Barcellona, in particolare sulla Rambla Catalogna, il primo attentato nella giornata di giovedì in Spagna. Siamo riusciti a raccogliere la testimonianza di una giornalista lucchese che vive a Barcellona, un modo per riflettere e anche per far sentire la vicinanza della comunità lucchese a tutte le persone rimaste vittime, i morti e i feriti. Vediamo. Sono tanti lucchesi che in questi giorni si trovano a Barcellona, turisti o professionisti che lavorano in Catalogna. Per tutti sono ore di shock dopo l'attentato sulla Rambla a Catalogna, costato la vita e purtroppo parliamo di bilancio provvisorio a 13 persone, compresi due italiani. Azione terroristica a cui è seguita nella notte un attacco a Cambril nel quale una donna è stata uccisa da un'auto in fuga con cinque terroristi a bordo. Tra i lucchesi che vivono a Barcellona c'è la giornalista Silvia Bolognini che giovedì era sulle Ramblas. Siamo riusciti a raggiungerla e a farci raccontare quegli attimi vissuti tra lo spavento e la voglia di fare il suo lavoro di giornalista. Mi trovo in piazza Cortina 1, a poche centinaia di metri da piazza Catalunia dove ieri si sono verificati i tragici infatti. Io ieri appena ho saputo dell'attentato, mi sono recata qui, volevo avvicinarmi il più possibile alla Ramblas però la zona era interdenta quindi sono scesa qui, come detto ci sarà una distanza di 400 metri, ho documentato con immagini e video quello che vedevo, ovviamente scene di panico, di terrore, un elicottero che fattoriava la zona dall'alto, ambulanze che passavano continuamente, pompieri, gente si è raggiata dentro i negozi in attesa di sapere nuove notizie, aggiornamenti dai telegiornali e dalle forze dell'ordine, perché come detto era tutta la zona delimitata, recentitata. Come detto potevo esserci anche io perché io ero qui da tre anni, la Ramblas è una delle le arterie principali di Barcellona, luogo ogni giorno frequentato da turisti ma anche da residenti, però quello che è certo è che a risveglio, proprio a realtà, subito ha detto che non ci sta, che non vuole sentire e vivere come minacciata da questo terrore, è stata fatta una manifestazione e sono in corso, ancora momenti di ricordo, le persone là sono proprio sulla Ramblas, ricordi, accendono caldine, scrivono messaggi in ricordo delle vittime. L'escalation del terrore che nelle ultime ore si è diffusa dalla Spagna, anche in Finlandia e Germania, ha dei risvolti ovviamente anche in Italia e sul nostro territorio, prevedibile che i controlli e le misure di sicurezza già previste siano ancora più strette, a partire da due grandi eventi in programma a Lucca, come la Notte Bianca e il concerto dei Rolling Stone. Danni per decine di migliaia di euro all'impianto sportivo di San Cassiano a Vico alle porte di Lucca, un incendio sicuramente di origine dolosa, sono stati trovati gli inneschi, ha devastato la notte scorsa, gli spogliatoi e messo fuori uso luce, acqua e riscaldamento, un vero colpo basso per la società calcistica dell'acqua calda San Pietro a Vico, che milita in prima categoria e che ha molti tesserati anche nel settore giovanile e nella scuola calcio. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri e la polizia che stanno curando le indagini. Il presidente della società, Gian Piero Bandettini, ha chiesto aiuto al comune di Lucca per continuare l'attività e per rimettere in sesto la struttura che l'acqua calda ha in gestione. E ora in Versiglia è di nuovo emergenza lavarone sulle spiagge di Pietrasanta, tra Motrone e un altro tratto di spiaggia che arriva fino a Pietrasanta. 11 ore di lavoro, di notte e all'alba, e alla fine l'emergenza lavarone a Marina di Pietrasanta per adesso si può dire superata. Dopo una settimana di disagi e di proteste, la spiaggia tra Motrone e Tonfano è tornata alla normalità, dopo l'invasione di alghe che ha reso impraticabile mezzo chilometro di arenile, ricoperto di sostanze maleodoranti. Sei mezzi in funzione sulla battigia, tra trattori, ruspe e pale, a cui si aggiungono i due camion di Ersu che hanno fatto la spola tra la spiaggia e l'impianto di trattamento del materiale rimosso. 100 tonnellate asportate dal bagnasciuga che fanno salire il monte complessivo a 1.400 tonnellate. Le operazioni, coordinate dal comune di Pietrasanta e dal consorzio dei balneari, si sono concluse poco dopo le 8 di mattina con il via libera del vice sindaco Daniele Mazzoni. Purtroppo il comune e la categoria dei balneari sono lasciati soli perché ricordo che il rifiuto che si tratta di questo a questo punto proviene dal mare e in parte dai fiumi in altri periodi dell'anno, per cui a nostro parere dovrebbe essere anche la regione toscana, se non addirittura lo Stato italiano, che dovrebbe venire incontro ai comuni costieri che sono sempre lasciati soli nella gestione di questa importante emergenza che ha dei costi importanti perché è bene ricordarlo, ce li stiamo accollando il comune di Pietrasanta e in parte i balneari. Infinite in questi giorni le lamentelle dei bagnanti che nella settimana di ferragosto, nonostante i prezzi alle stelle e la folla, non hanno potuto fare il bagno e neppure avvicinarsi all'acqua. Una situazione del genere si è verificata negli anni 80 quando addirittura per poter andare in acqua, a fare il bagno, si mettevano delle passerelle attraverso questo lavorone spiaggiato. Adesso la speranza è che il mare smetta di restituire alghe oppure l'emergenza tornerà. Ma ovviamente i turisti in Versilia ci sono e come sono stati pizzicati da alcuni passanti che li hanno immortalati seduti su una panchina del centro come due turisti qualsiasi, due vere proprie star. Eccole qua, Samuel Jackson e Magic Johnson in vacanza nel Mediterraneo in queste settimane. Il popolarissimo attore e l'ex giocatore dell'NBA sono stati fotografati insieme in via Carducci al Forte tra le vetrine griffatissime con tanto di borsette alla mano dopo lo shopping di lusso. I due stanno trascorrendo delle vacanze nel Mediterraneo e evidentemente si sono fermati anche in Versilia. A proposito di turisti in Valle del Cerchio in questa settimana di Ferragosto davvero tante tante presenze. Ferragosto ha confermato l'ottimo momento che sta vivendo la Valle del Cerchio sul fronte turistico. Quella dell'assunta è stata una giornata che rimarrà negli annali per numero di presenze nonostante la corsa ciclistica Firenze e Viareggio che ha creato molto code e ha fatto arrabbiare tanti automobilisti. Il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ha annunciato che su questo argomento chiederà al prefetto più attenzione. A parte questo intoppo e qualche lamentella per le autovelox, la giornata è stata davvero speciale. Come avviene ormai da oltre un anno, Vagli ha fatto la parte del Leone. Migliaia di persone hanno deciso di fare un giro sul ponte a funi sospese, gettarsi con il dell'angelo, ma anche cogliere l'iniziativa voluta dal sindaco Puglia a Campocatino con la festa di Ferragosto che ha registrato il tutto esaurito, tant'è che dalle 14 è stato necessario chiudere l'accesso al caratteristico paesino montano. Nel versante dell'acqua bianca nel comune di Minuciano, molto apprezzato il parco acquatico voluto dall'amministrazione comunale gestito dalla locale squadra di calcio. Gramo Lazzo, con il suo lago, si è dimostrato una soluzione molto apprezzata dai tanti turisti. Qui si può praticare la pesca, la vela e fare un giro lungo il lago per poi gettarsi per un bagno nelle limpide acque scese dal monte Pisanino. Anche i ristoranti hanno registrato il tutto esaurito per non parlare delle tantissime sagre che caratterizzano questo territorio, tanto da diventare attrazioni vere e proprie. Il turismo, insomma, è in netto aumento, anche in doppia cifra, come testimonia la grotta del vento a fabbriche di Vergemoli. Torniamo in Versilia per lo spettacolo, davvero tutto esaurito e grande successo, di Enrico Brignano a Villa Bertelli. È stato un ritorno in Versilia per Enrico Brignano, due anni fa sul palco della Versiliana e giovedì sera a Villa Bertelli a Forte dei Marmi davanti a 2600 spettatori che lo hanno lungamente applaudito. Un grande ritorno, quello del comico romano, che porta avanti con successo la rassegna estiva di Villa Bertelli con un altro sold out dopo quello di Antonello Venditti lo scorso 14 agosto. Pubblico numeroso e caloroso, come lo stesso Enrico Brignano ha sottolineato alla fine dal palco, esprimendo il desiderio di tornare anche il prossimo anno. Molti gli artisti e personaggi del mondo sportivo sono giunti a Forte dei Marmi per assistere all'esibizione del comico romano che debutta a Villa Bertelli con uno spettacolo che vuole in qualche modo celebrare i suoi trent'anni di carriera nata con gli studi alla corte di un maestro indiscusso come Gigi Proietti. E tu, Moby Dick, da quale profondo abisso sarai ridendo di me, del Capitano Ogoba! In platea, ad assistere a questo nuovo spettacolo dal titolo Enrico Mincio da me, c'erano Giorgio Panariello, l'attrice Monica Guerritore, Mara Maionchi, il presidente del Genoa Calcio Enrico Preziosi e tutti si sono spellate le mani in lunghissimi applausi sulle battute al funicutone di Brignano. Una comicità intelligente, la sua, e mai banale. Un grande one-man show costruito per sé e su di sé. Varcato il traguardo di mezzo secolo, Enrico Brignano non smette di farsi domande. Soprattutto si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure una gran botta di fortuna. Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, quaggiuvato da danzatori, acrobati, musiche oniriche, scene quasi magiche, Enrico ha ricominciato dal principio, ovvero dal palcoscenico. E da un attore all'altro, un attore molto particolare conosciuto a Lucca e in Toscana, Gildo dei Fantardi. A lui hanno dedicato una citazione anche la Treccani e Wikipedia. Stiamo parlando di Gildo dei Fantardi al secolo Luciano Filippi che in questo 2017 festeggia 50 anni di carriera. Cantastorie, menestrello, cantautore, attore è sulla scena dal 1967, da quando ha iniziato a interpretare le canzoni popolari, accompagnato alla fisarmonica dal compianto Gaetano Capraro. Poi tanto cabaret, partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche, film e molto altro ancora. Ma io avevo il mio lavoro vero, quello di rappresentante, e così mi sono sempre sentito come un intruso nel mondo dello spettacolo, racconta timido mostrando il suo ritratto realizzato da Pierluigi Puccini. Timidezza non sul palco, certamente, ma di promuovere se stesso, che dopo 50 anni ha deciso però di rompere, organizzando una serie di eventi che prenderanno il via giovedì prossimo, 24 agosto, ad Artemisia di Tassignano. Mezzo secolo di carriera, segnati anche da molte partecipazioni cinematografiche, come quella in Arrivano i gatti, con i gatti di Vicolo Miracoli, che cita ancora come uno dei ricordi più belli. Anche perché c'era Vanzina, primo film che dirigeva, e I gatti, che era il primo film che facevano, vidi proprio con soddisfazione, dopo la mia prima interpretazione, andare ad abbracciarsi Umberto Smaila e Vanzina, perché c'era il timore di un bischio come me che arrivava lì a Roma. E a proposito di film, giovedì, oltre alla partecipazione dell'improvvisatore Mauro Chechi, sarà proiettato anche il medio metraggio realizzato dalla regista lucchese Alessandra Angeli, a Sfixia, già vincitore di molti premi internazionali, in cui appare come comparsa anche Ginto. Appuntamento giovedì alle 21.30 ad Artemisia. Si nasce e si muore, eterna parabola, si mangia per vivere, per fare l'amore, il vive e il felice è solo una favola. Cosa c'è di più, vero? E ora ascoltiamo, come ogni fine settimana, l'editoriale curato da Sergio Talenti, l'Ancora. L'ultima informazione sul civismo italiano arriva dal cimitero di Porcari, dove nella stradina prospicente al cimitero è stata scoperta una discarica a cielo aperto di rifiuti soldi, water compreso. Non lontano, alcuni giorni prima, ci sono stati due grossi incendi che hanno messo a pentaglio case e proprio in questi giorni ha finito di bruciare Monteprana. Tutto questo per mano umana. A Viareggio, tempo fa, è stata bloccata la rampa di accesso alla superstrada, anche portatore del lago, perché invasa da sacchetti di mondizia gettati da allegri gitanti. Poco dopo, alla Lecciona, parco didattico ambientale, è stato chiuso un bagno abusivo. Un parco didattico ormai in condizione di discarica quella, perché non presidiato dall'ente parco. Una emergenza ambientale dunque, infatti girano umani inconsapevoli della propria nullità e pericolosità. Ma questa è una lotta di lungo periodo che deve cominciare dalla scuola dove purtroppo negli anni 70 furono soppresse le ore di educazione civica e dove noi ci auguriamo che siano ripristinate, perché altrimenti ci troviamo di fronte ad una delinquenza ambientale più o meno unica in Europa. È tutto per la prima parte del TG Noi, una pausa e poi la pagina sportiva.